Cultura, paesaggio, tradizioni, folclore. Ci sono gli elementi più rappresentativi di Gualdotadino nei sei scatti fotografici di Daniele Amoni installati nella Galleria dell'Ascensore Comunale per il Centro Storico in Piazza Beato Angelo. Le fotografie dell'artista gualdese che immortalano i giochi delle porte, il Monte Serra Santa, la Roccaflea, Piazza Sopramuro, la Fontana Cardinale del Monte e la ceramica Oro e Rubino sono state accuratamente selezionate e ora danno il benvenuto in sei lingue differenti, italiano, inglese, francese, spagnolo, tedesco e cinese, a coloro che arrivano a Gualdotadino. I primi ad apprezzarle sono stati i 20 rappresentanti dei paesi europei giunti in città per la chiusura del Festival Europeo degli Sport e Giochi Tradizionali, come sottolineato dal sindaco di Gualdotadino Massimiliano Presciutti, presente insieme agli assessori della giunta al simbolico taglio del nastro dell'iniziativa fotografica. È nata grazie al comune di Gualdotadino che mi ha contattato chiedendomi un certo numero di immagini per inserirli in queste piccole nicchie che hanno dovuto prima di tutto ripulire perché erano in condizioni veramente pietose. E poi hanno inserito queste foto, io ho mandato circa una ventina di immagini e poi loro hanno scelto in maniera autonoma quelle che secondo il comune, la commissione che era stata credo incaricata di quelle che più rappresentavano la città. Sono vari aspetti, quindi dall'aspetto paesaggistico, all'aspetto della ceramica, all'aspetto del folclore e quindi la storia. Sono sei immagini che, devo dire la verità, sono venute abbastanza bene, ma già come partenza erano immagini molto ben dettagliate perché immaginavo che la grandezza doveva rendere l'immagine perfetta. Grazie.